Domenica sera, 19 agosto, al Teatro Costa Bianca, Real Monte, Paolo Macedonio propone Fulmine a Celsereno, con l'amministratore di compagnia, il cane Sonni. Sonni? Fulmine a Celsereno, domenica sera, alle 21.30. Non ha caldo con Caligola che incombe? No, ce l'ha il caldo, lui è scozzese, per cui l'ho portato in vacanza, lui è un tipico cane che è siciliano però di origini scozzese, per cui qua sta morendo dal caldo. Sarà presente anche lui allo spettacolo Fulmine a Celsereno, una nuova edizione? Sì, è una nuova edizione, quella perfetta, la perfect edition, quella per Agrigento, che prevede la moltitudine dei personaggi che io interpreto e che imito, è dentro quella struttura drammatica di cui parlammo in quella famosa intervista, e adesso è per gli agrigentini, che in realtà sono i veri autori di questo spettacolo. Sei in compagnia di un coautore? Sì, presento il coautore. Albi, vieni. Lui è il mio coautore, Alberto Loporto, come vedete è me innaffiato, ben curato, viene fuori lui. Chi avrà contribuito sicuramente ad arricchire di fulmini il Celsereno di Paolo Macedonio? Certamente, ma già è un fulmine che è già ricco di suo, Paolo Macedonio, non ha bisogno di... Abbiamo soltanto collaborato insieme, intanto vengono fuori così, da una vita che lui racconta questi pezzi, abbiamo semplicemente messo insieme in una struttura teatrale, ma il fenomeno in realtà è lui. Domenica sera, allora, 19 agosto, appuntamento al Costa Bianca, l'invito ai telespettatori. Ricordo anche il grande ringraziamento alla regia di Gaetano Aronica, senza la quale non avremmo mai potuto fare questo fulmine a Celsereno. Ciao a tutti, venite, domenica, in massa, mamme, nonne, è lo spettacolo delle nonne. Io comincio per esempio con l'imitazione di mia nonna, spero ci sia pure tu, Angelo. Immancabilmente, l'imitazione di tua nonna, un saggio. Io non capisco per quale motivo tu devi sempre andare appresso alle femmine e al divertimento. Nella vita non so che cosa ti resterà, ti resterà femmine e al divertimento e rimarrai con un bugno di mosca in mano. Ciao nonna. Vuoi ripetere un attimo quella di Paolo Punturello? Allora, stiamo a parlare di rock, allora parlavo di rock, stiamo a parlare di tutti questi grandi belli minchiati, un rap, panzuna, orologi, yo-yo, ti sminchio, ti sminchio, ti sminchio. Io non sogno un panzuna, un nivolo che va a cantare queste cose a tempo beat. Un rock è qualcosa che viene da dentro, è come una locomotiva che parte e che tu non puoi fermare. Dai, accorda a questi strumenti che partiamo. On the road.